Il fenomeno degli UFO o UAP ha valenza mondiale ed è stato investigato per altri 70 anni e può avere implicazioni profondi per la humanità e la società. Questo funziona con intelligenza, probabilmente extraterrestre, e non-humano originale. La questione è, come dobbiamo fare con questo fenomeno? È per questo che abbiamo creato l'ICER, la Collegazione Internazionale per la investigazione extraterrestre. ISER è un'organizzazione che ha presentatori di 27 strani del mondo su 5 continenti. Siamo scienziati, akademi e lezze UFO o UAP all'interno del mondo. E noi abbiamo trovato il momento di preparare questo contatto. E il tempo è ora. E è per questo che ISER sta tratando di sentire le basi per una nuova realtà. E l'ICER vuole promuovere relazioni pacifiche con queste intelligenze. questo è un'occasione di riscogliere per la tutta dell'Omino. Come dobbiamo dare formare il nostro futuro? Allora pensiamo. about it.